Il Sulmona è chiamato a dare seguito alla sua serie positiva nel match sul campo del guardia grile di Simonelli. Domenica e Granata hanno sfatato finalmente il tabù vittoria, superando nel derby lo Sporting Ortona. Gli Ovidiani invece hanno sconfitto il Giulianova 1-0 tra le Muramiche. Il primo tempo è equilibrato con poche emozioni da gol. Al tredicesimo ci prova Antignani di testa su cross di Ferrari con palla che finisce sul fondo. Gara caratterizzata dalle contestazioni nei confronti della terra arbitrale diretta da Feliciani di Teramo, soprattutto da parte dei padroni di casa che al diciottesimo vengono fermati per una presunta posizione di offside di Antignani servito da Torsellini. Al ventesimo si vedono gli ospiti con Bolzan che si accentra e calcia col Mancino, palla fuori. Ancora Antignani al trentottesimo, questa volta prova a sorprendere Meo con una girata spettacolare. L'estremo di casa è attento e alza sulla traversa. Ci si avvia così verso l'intervallo su un giusto 0-0, ma al 42esimo Scandurra raccoglie una respinta corta della difesa di casa e con un tiro preciso in fila rullo. Il DNA del bomber di razza del numero 9 regala quindi al Sulmona un gol pesante. 1-0 e squadre negli spogliatoi. Il Grele deve inseguire nella ripresa. Al quinto Antignani mantiene in campo il pallone e serve Torsellini che da buona posizione spara altissimo. Poi Ferrari con una conclusione centrale che Meo neutralizza senza problemi. Al trentaquattresimo il corner di Bolzan crea il panico nell'area Granata. Nessuno però è in grado di buttarla dentro. La squadra di Simonetti dal canto suo fa fatica a pungere e nel finale si registra il tentativo di Lopez su calcio piazzato e la parata di Meo. Non accade più nulla fino alla triplice fischio con il Sulmona che può festeggiare il quarto successo consecutivo mentre il guardia Grele rimedia il secondo K.O. stagionale. Il DS Granata-Rullo però si lamenta apertamente dell'arbitraggio mentre è soddisfatto giustamente mister Mecomonaco. Ci hanno condizionato come al solito la terna arbitrale con diversi fuorigiochi inesistenti. Noi abbiamo dei giocatori molto bravi che giocano lì sulla linea come Antignani, come Torsellini, come Ferrari nel primo tempo quindi ci hanno condizionato. Comunque ci siamo abituati, quest'anno siamo partiti con un criterio abbastanza diverso nel senso che durante la settimana il mister si allena sempre 11 contro 14 quindi siamo abituati a tutto. Oggi sinceramente non ci siamo espressi come al solito però abbiamo incontrato anche una squadra di categoria ben messa in campo che lanciava sempre palla lunga e con Antignani ci dava un pochettino fastidio. Siamo contenti perché questo non è un campo facile, partite scontate non ci sono, sono contento per il risultato meno per la prestazione però accettiamo di buon grado i tre punti.